Musica Nuovo defibrillatore salva vita, il primo impianto è il Sirai di Carbonia. L'ASL numero 7 sperimenta con successo per prima in Sardegna una tecnologia all'avanguardia che dà speranza ai pazienti a rischio di morte cardiaca. Carbonia marciapiedi di sestati e cadute rovinose. Un'anziana donna ha riportato ferite all'affronte al volto dopo essere inciampata nella pavimentazione danneggiata dalle radici degli alberi in corso Iglesias. Cronaca tre arresti e Iglesias, aggressione e furto aggravato le accuse per tre giovani sorpresi dai carabinieri nella notte di sabato. Musica e parole al via oggi il nuovo programma di Canale 40, letteratura, musica e numerosi ospiti nell'approfondimento condotto dal giovane musicista Davide Mocci in onda alle 21. Oggi in studio lo scrittore Claudio Moica. Bentornati su Canale 40, al Sirai di Carbonia il primo impianto in Sardegna di un nuovo defibrillatore cardiaco impiantabile. Si tratta del defibrillatore più piccolo e più sottile al mondo, una tecnologia medica che fa passi da gigante nei pazienti con patologie cardiache ad alto rischio. Il servizio è di Tamara Pettis. Nuove speranze ai pazienti a rischio di morte cardiaca improvvisa. All'ospedale Sirai di Carbonia in questi giorni è stato effettuato l'impianto di un nuovissimo defibrillatore di Boston Scientific, il defibrillatore cardiaco impiantabile più piccolo e sottile al mondo. Si tratta di uno dei primi impianti in Italia e il primo in Sardegna. L'intervento è stato condotto dall'equip del dottor Rinaldo Aste, direttore della cardiologia della ASL 7. Il dispositivo rappresenta l'ultima novità in campo aritmologico. Consente di proteggere il paziente in maniera efficace e allo stesso tempo in maniera meno invasiva possibile. Il dottor Aste ha espresso grande soddisfazione per il lavoro compiuto in questa occasione. Abbiamo potuto offrire al nostro paziente, affetto da una seria patologia cardiaca, un dispositivo innovativo, indispensabile per la sua sopravvivenza, ha sottolineato il medico. Il defibrillatore rappresenta una delle frontiere più avanzate della medicina minimamente invasiva, e consente di ridare speranze ai pazienti con situazioni cardiache ad elevato rischio. I marciapiedi dissestati a Carbonia stanno rappresentando un serio pericolo per i passanti. Sabato pomeriggio in Corsiglesias un'anziana signora è inciampata in uno degli autobloccanti della pavimentazione che le radici degli alberi hanno sollevato, cadendo rovinosamente a terra. La sfortunata donna è solo l'ultima in ordine di tempo, non è la prima volta infatti che gli abitanti del popoloso quartiere si trovano a dover prestare i primi soccorsi a chi suo malgrado si trova a camminare sui marciapiedi ormai resi quasi inagibili. Le vittime sono quasi sempre persone di una certa età che, come nel caso della donna inciampata sabato pomeriggio, riportano ferite al capo o al volto. Sul posto c'era per noi Manolo Murettu che, oltre ad aver girato queste immagini che abbiamo appena visto, ha anche raccolto la testimonianza di un abitante della zona. Sentiamo. Salve, cos'è successo? Niente, io ero a casa, mi stavo rilassando, ho sentito dei rumori qui sotto, mi sono affacciato e c'era questa ragazza, questa signora per terra che perdeva sangue. Niente, siamo scesi a soccorrerla perché c'era già altra gente che la stava soccorrendo e abbiamo capito che è caduta in questa spavimentazione tutta malmessa che c'è qui in Corsiglesias. Purtroppo è tutta la via così. Le radici degli alberi hanno sollevato la pavimentazione già da qualche anno. Non è la prima persona che io soccorro perché mi è già capitato diverse volte, una volta, un'altra volta di mattina presto, mentre andavo a lavoro, di soccorrere una persona che camminava, qui passano tutti camminando, chiaramente non si accorgono che la pavimentazione è sollevata e inciampano e cadono per terra. Siamo qui così da un paio d'anni, avrebbe bisogno di un po' di manutenzione questa via. E passiamo alla cronaca. Tre arresti sabato notte a Iglesias durante la partita della Nazionale nel bar della frazione di Bindu a un uomo di 35 anni del posto. Antonio Mocci, in evidente stato di alterazione alcolica, avrebbe costretto una dipendente a somministrargli ulteriori bevande alcoliche, aggredendo una persona che aveva accanto e successivamente ingiurato e spintonato i carabinieri intervenuti sul posto. L'uomo è stato arrestato per violenza privata, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Poche ore prima della partita della Nazionale, sempre i militari della stazione di Iglesias hanno sorpreso due giovani del luogo, Matteo Pudu di 30 anni e Michel Pau di 21, intenti a scassinare la cassetta portamonete di una cabina fotografica in via Oristano. I due sono stati arrestati per furto aggravato. Per i tre arrestati questa mattina nel Tribunale di Cagliari si è svolto il processo con rito direttissimo. Vediamo adesso una notizia invece a carattere regionale. Entro settembre la Sardegna avrà il centro funzionale decentrato della protezione civile. L'ha annunciato la Regione spiegando che finalmente dopo dieci anni anche nell'isola ci sarà un tassello essenziale per la costruzione del sistema della protezione civile. Sentiamo i dettagli in questo servizio. Entro settembre la Sardegna avrà il centro funzionale decentrato della protezione civile. L'ha annunciato la Regione spiegando che finalmente dopo dieci anni anche nell'isola ci sarà un tassello essenziale per la costruzione del sistema della protezione civile. A stabilirlo è l'aggiunta regionale attraverso una delibera di indirizzo presentata dall'assessore all'ambiente Donatella Spano che definisce le linee guida del progetto. Sta per essere costituito il gruppo di lavoro che coinvolgerà oltre le direzioni dell'ARPAS e della protezione civile anche alcune direzioni generali della Regione stessa. I tempi sono stretti. Entro il 31 luglio prossimo infatti dovrà essere pronto il progetto esecutivo del centro funzionale decentrato. Una buona notizia nella notizia, in particolare per quanto riguarda il Sulcis, è che nella progettazione del centro saranno coinvolti tutti i soggetti e gli enti a partire dai consorsi di bonifica che potrebbero avere ruoli decisivi soprattutto nell'attività di prevenzione dei gravi eventi naturali. Intanto, in attesa che le nuove strutture entrino in funzione, verrà effettuato un monitoraggio sull'esistenza di piani locali di protezione civile nei comuni e nelle province dell'isola. Un'ondata di maltempo sta investendo la Sardegna. La protezione civile ha diramato un allertamento a partire da oggi e per le successive 24-36 ore il livello di moderata criticità per rischio idrogeologico è comunque localizzato in particolare in Gallura e Logudoro, ma anche nel Sulcis si percepisce il brusco abbassamento delle temperature accompagnato da un cielo ampiamente coperto da minacciose nuvole. sono previste precipitazioni diffuse a prevalente carattere di rovescio temporale, locali grandinate, forte vento e frequente attività elettrica. Si chiama Sagiuru Torrau, un modello relazionale alternativo per uscire dalla solitudine, dall'individualismo e ritrovare così lo spirito di socialità. L'idea è di Giancarlo Labate, psicologo di Carbonia, che intende portare il progetto anche nelle scuole. Un modello relazionale che si rifà alle antiche tradizioni, un modo per socializzare, uscire dalla solitudine, guardarsi negli occhi, sorridere e sentire il calore delle persone vicine nel soddisfacimento dei nostri bisogni. Parliamo di Sagiuru Torrau, un modello che lo psicologo Giancarlo Labate di Carbonia ha ideato per rivalutare i rapporti di socialità delle persone in un'ottica sostenibile. Dopo l'iniziativa del Giro in Sardegna con i pattini, Labate propone altri progetti e descrive ai nostri microfoni l'importanza di Sagiuru Torrau. Il mio progetto è quello di Sagiuru Torrau, che è traduzione l'aiuto restituito, quello di sviluppare un modello culturale per far sì che le persone tendano ad aiutarsi di più in maniera reciproca e non per forza attraverso gli aspetti economici. Quali iniziative sono in campo per mettere in atto questo progetto? Allora, il primo progetto, la prima iniziativa è stata quella dell'anno scorso, quando ho fatto il Giro della Sardegna con i pattini, intitolato proprio a Giro Torrau. Adesso dovrò uscire a breve un adesivo con la scritta «Sono egoista, ti aiuto per migliorarci». E poi, questo mercoledì, ci sarà la prima edizione del concorso espressivo a Giro Torrau, che si terrà all'Aveglio Spano, qui a Carbonia, dalle 17 alle 19, con la presenza di una giuria tecnica che dovrà valutare i lavori maggiormente rappresentativi di questo concetto, di questo modello. E questi lavori io poi li porterò con me a Strasburgo, la Comunità Europea, in modo tale che da mandare un messaggio alla Comunità Europea, e non soltanto a livello regionale, che noi comunque dobbiamo adottare questo modello. È un modello sostenibile. È un modello che è sostenibile da un punto di vista ambientale, da un punto di vista relazionale. Da tutti i punti di vista è sostenibile. Questi lavori che la giuria esaminerà, da chi sono fatti? Ho dimenticato di dirlo. Io, con i colleghi dell'Associazione, abbiamo chiesto a tutte le scuole del Sulcis, medie e superiori, di poter esprimere a modo loro il concetto di Giro Torrau attraverso degli scritti, attraverso delle foto, dei disegni, dei filmati, insomma, come loro preferivano. Ci sono arrivate delle richieste, purtroppo non da parte di tutte le scuole, ma speriamo l'anno prossimo di riuscire a coinvolgerle maggiormente. Comunque ci sono arrivate delle proposte molto interessanti. Io alcune le ho già viste e sono veramente molto interessanti. e niente, quindi in quella serata verranno anche visti uno per uno, verranno commentati e alla fine emergeranno non il vincitore in senso classico, primo, secondo e terzo, perché siamo contro l'aspetto competitivo, ma più per quello collaborativo, ma metteremo in evidenza quelli più rappresentativi. Parliamo adesso di gioco d'azzardo e ludopatia e lo facciamo proponendovi uno spezzone dell'irriverente, il programma condotto da Manolo Mureddu, che andrà in onda oggi al termine delle due edizioni del TG40. Sentiamo quindi parte dell'intervista che Manolo ha realizzato con Nanni Cerina, presidente dell'Associazione Assiga. Sono molti i cittadini che soffrono di questa patologia? Sì, sono tantissimi. Diciamo che in Italia sono circa patologici, cioè che sono in cura presso le ASL, sono circa 800 mila o un milione di persone, mentre quelli problematici sono circa 3 milioni. E le persone che giocano in Italia sono circa 25 milioni. Sappiamo che molti bar hanno scelto di non installare le macchinette del videopoker, le slot machine? Sono dei bar che, diciamo che a Carbonio sono circa una ventina i bar che hanno deciso di non vendere l'azzardo. Oppure anche ci sono dei bar tipo il mercato, tipo il bar Cagliari, tipo il bar dello sport, che avevano prima le macchinette e poi hanno deciso di non vendere. Rinunciano a un introito economico in un periodo di crisi così importante per una questione di etica, di moralità. Tiene presente che in Italia stanno dando i comuni, danno dei premi per convincere i barman di non rinunciare alle macchinette. Anche qui succede? Anche a Budoni, proprio ieri, danno 500 euro a tutti gli esercenti che decidono di non mettere l'ail. Basta fare una domandina e a Budoni ci sono 10 mila euro a disposizione. Questa è l'ultima. E qui succede? Qui ancora no. Si terrà sabato 21 giugno la prima giornata di sport e solidarietà organizzata dall'associazione Talassazione di Carbonia dell'Avis e dall'assessorato sport del Comune di Carbonia. A partire dalle 8 del mattino, gli atleti delle associazioni sportive che hanno aderito all'iniziativa si recheranno presso il centro trasfusionale per donare il sangue. La sinergia tra amministrazione comunale, mondo dello sport e associazioni impegnate nella sensibilizzazione alla donazione del sangue, ha spiegato l'assessore comunale allo sport Fabio De Zogus, mostra ancora una volta la vocazione solidale della città di Carbonia e dei suoi abitanti. L'estate ha concluso, è un periodo assai difficile per tutti coloro che hanno bisogno di trasfusioni. Per questo abbiamo deciso di coinvolgere le associazioni sportive cittadine in questa importante iniziativa. Da oggi una nuova produzione di Canale 40 arricchirà il nostro palinsesto si chiama Musica e parole, programma dedicato alla musica e alla letteratura e sarà condotto dal giovane maestro di chitarra Davide Moci il quale di volta in volta avrà in studio un ospite diverso. La prima puntata di Musica e parole va in onda oggi alle 21 e l'ospite di questa sera sarà lo scrittore e poeta Claudio Moica. Con questa notizia si chiude il nostro giornale vi ricordo che immediatamente dopo di noi ci saranno le previsioni meteo poi a seguire l'irriverente come annunciato di Manolo Mureddu e alle 21 appunto il nuovo programma di Davide Mocci Musica e parole. Vi ringrazio per aver seguito il TG40. Arrivederci. Per domani è previsto cielo velato o poco nuvoloso. Il vento soffrirà da nord-ovest con intensità di 20 km orari. Possibili raffiche fino a 24 km orari. Temperature minime comprese tra i 14 e 20 gradi e massime comprese tra i 24 e i 28 gradi.